Per le elezioni amministrative a Civitella, per la prima volta si presenta la lista del Movimento 5 Stelle, Andrea Barbagli è il candidato. Partiamo dalla presentazione, chi è Andrea Barbagli? Sono un impiegato amministrativo, è la prima volta che faccio politica, sono un attivista del Movimento 5 Stelle ormai da qualche anno e insieme a un gruppo di cittadini, con molti sforzi e pochi mezzi, cerchiamo di cambiare le cose in questo comune. Qual è il programma del Movimento 5 Stelle per queste amministrative? C'è il programma nazionale, che sono le nostre 5 Stelle, dall'ambiente al 3 Sporti e poi abbiamo delle particolarità per questo territorio. La cura dell'ambiente, il monitoraggio continuo con i dati a disposizione di tutti, poi una micromobilità, poi uno sportello per le professionalità, per l'incontro di chi cerca lavoro con le aziende che possono dare lavoro. Per quanto riguarda la lista del Movimento 5 Stelle, quali sono gli altri candidati alla carica di consiglieri? Sono tutti cittadini di questo comune, ci sono dagli impiegati all'operai, ai disoccupati purtroppo. Sono tutti cittadini come noi che hanno fatto una scelta, cercare di cambiare le cose in questo comune. Noi ci rivolgiamo a tutti quelli che vogliono un cambiamento, che vogliono un comune diverso, anche perché se continui a votare gli stessi, avrai gli stessi risultati.